Primo maggio, festa del lavoro, festa dei lavoratori, ma proprio perché si parla di lavoro dobbiamo fare una riflessione seria su questo tema. I tempi di lavoro per produrre le cose che ci circondano, di cui abbiamo bisogno, i tempi di lavoro per i servizi di cui abbiamo bisogno diminuiranno sempre di più, grazie all'innovazione tecnologica, all'intelligenza artificiale, al progresso tecnico-scientifico. E allora ci troviamo di fronte a due soluzioni. Una è quella che stiamo frequentando, cioè quella della concentrazione del potere, del comando e delle ricchezze dovute a questo risparmio di lavoro nelle mani delle grandi multinazionali, della grande finanza, della grande economia. L'altra è quella che vorremmo proporre, cioè una ridistribuzione dei tempi di questo lavoro per tutti. La piena occupazione, lavorare tutti, lavorare meno, evidentemente, e vivere meglio tutti. Sono due strade diametralmente opposte. Quella che stiamo frequentando è quella di una concentrazione di ricchezze dove grandi multinazionali, grandi gruppi monopolistici hanno una ricchezza e un potere, un comando maggiore addirittura a quello degli Stati. Lo abbiamo visto quando il Presidente americano Trump in campagna elettorale veniva bloccato da Twitter. A noi non piace Trump, ma Twitter è più potente del Presidente degli Stati Uniti e quindi vi dà l'idea di quella che è la forza di queste grandi multinazionali, di questi grandi gruppi. Dall'altra parte c'è invece la necessità di vivere un mondo dove tutti possano lavorare, dove il lavoro sia un diritto e non venga concesso una miseria, un reddito di cittadinanza, magari stando a casa bloccati sulla tastiera di un computer, a ricevere cibo da qualche multinazionale che ci fa mangiare le loro schifezze. Ecco, noi vorremmo un mondo diverso dove il lavoro venga redistribuito, dove si lavori tutti, si lavori meno e si viva meglio. Questa proposta si chiama socialismo, poi possiamo chiamarla anche Pippo, magari ci piace diversamente per chi ama Walt Disney. Però questa è la proposta che va fatta, lavorare meno, lavorare tutti, la piena occupazione, perché il lavoro è dignità, emancipazione e ricchezza dell'uomo. Viva il primo maggio!